In anticipo rispetto alla data prevista per la fine dei lavori, che era fissata al 17 luglio, si riapre oggi al transito con doppio senso di marcia via 20 settembre, via il semaforo provvisorio installato nei mesi scorsi e che soprattutto nei primi giorni aveva mandato in tilt il traffico. Questa mattina le ultime operazioni, prima dello smontaggio quasi definitivo del cantiere. L'azienda che ha eseguito i lavori ha montato anche il guardrail di colore marrone, scelto appositamente per non impattare con l'ambiente circostante e spesso usato per le strade di montagna, per far sì che ci siano tutte le condizioni di sicurezza necessarie. Sono stati realizzati anche dei sostegni, chiaramente, al muro di contenimento. I lavori sono costati circa 500 mila euro. Si è realizzata una palificata con micropali in acciaio e calcestruzzo. Successivamente ci sono stati degli scavi per costruire le trave di fondazione Cordoli. Sono state poi predisposte le armature ed eseguiti getti di calcestruzzo. Un'operazione non da poco. L'ultima fase ha riguardato il ripristino del manto stradale. La ricostruzione della porzione di muro crollato, la realizzazione di sottoservizi per la nuova illuminazione, della segnaletica e il montaggio delle barriere. La strada potrà essere riaperta perché i lavori proseguiranno, ma solo soltanto per azione di rifinitura, nella sottostante via Borghio Rivera. Io vorrei innanzitutto far notare che l'opera che è stata realizzata è stata un'opera relativamente complessa, sia nella progettazione che nella realizzazione. Abbiamo infatti dovuto utilizzare un macchinario più piccolino per fare i micropali, proprio per evitare la chiusura totale della strada. Questa è una cosa che magari non è stata sottolineata in altri interventi. Fermo restando che la qualità del lavoro svolto è rimasta la medesima. Anzi, un ringraziamento particolare va alla ditta che, come ripetiamo, è riuscita a fare questo lavoro importante e molto costoso con largo anticipo. È stato fatto un intervento strutturale che permette adesso la completa sicurezza della strada. La chiusura della strada risale al dicembre del 2023. In realtà, un incidente avvenuto a gennaio del 2023 aveva già danneggiato una porzione del muro di contenimento, ma in una posizione diversa. Non fu l'unico incidente. I successivi hanno spinto il Comune ad adottare la chiusura e ad avviare subito i lavori per questioni di sicurezza. Il Comune è stato cedere anche nel fare il progetto che è stato condiviso con la soprintendenza. Grazie a tutti.